Il centro vaccinale per i vaccini anti-covid e declusone in Alta Valle Seriana ha riaperto un nuovo spazio. Non viene più utilizzato il centro sportivo di Via Dombepo Vavassori, ma da questa settimana è un'ala dell'ex casa dell'orfano ad ospitare le linee attivate dalla SST Bergamo Est con IML, Iniziativa Medica Lombarda. 180 le dosi giornaliere che si potranno somministrare. Ad oggi l'apertura è solo di due giornate, il lunedì dalle 14 alle 20 e il martedì dalle 8 alle 14. L'invito di Regione Lombardia e dell'azienda sociosanitaria è quello a prenotare la quarta dose sul sito regionale. Lunedì 17 ottobre è stato aperto il centro vaccinale di Clusone. Vaccini anti-covid e vaccini anti-influenzare vengono somministrati qui alla casa dell'orfano. In ingresso la cittadina lungo la statale, una sede comoda, aperta solo due giorni alla settimana perché ci sono poche prenotazioni. Abbiamo sentito i cittadini se sanno appunto della riapertura e se intendono farsi la quarta dose. Farà la quarta dose? Sicuramente assieme all'anti-influenzale, verrà fatta giù alla casa dell'orfano. E ha già prenotato, si è già informato? L'ho ancora prenotato perché sono i primi che fanno e quindi aspetto qualche giorno. Avere più informazioni però sicuramente la faccio. Centro vaccinale a Clusone? Per il centro vaccinale... Lo sa che l'hanno riaperto? Sì, ma adesso aspetto il mio nipote che mi dica qualcosa. Certo, comunque farà la quarta dose? Penso di sì. Diciamo che c'è un po' di titubanza anche tra le persone sul fare o non fare questa quarta dose. Qualcuno continua a dire no, ma io aspetto perché così e ne arriva uno che comprende anche l'anti-influenzale. Non hanno capito che comunque saranno due somministrazioni lo stesso. Non è un vaccino che comprende entrambe le vaccinazioni. La gente ha paura quando si trova di fronte a delle cose tragiche. Perché prima che uscisse il vaccino dicevano tutti appena arriva il vaccino mi vaccino. Quando è arrivato il vaccino cosa hanno detto? Hanno detto prima lo provano gli altri, poi lo provo io. Adesso in questo momento sono un po' tranquilli perché le informazioni sono abbastanza tranquille. Non penso che vengono voglia di vaccinarsi, però faranno l'anti-influenzale o stanno aspettando che gli dicano i dottori perché alla fine è il dottore che decide. Vete che ha riaperto il centro vaccinale a Clusone? Che io sappia no. Ha riaperto lunedì. Se io farò la quarta dose? Se sarò obbligata sì, se no no. Sei di Clusone? Sì. Sapevi che hanno riaperto il centro vaccinale? Pensi che farai o aiuterai qualcuno a fare la quarta dose? Non penso. Sono diventata Novax.